Oh, io una stagione così non la reggo, eh? Cioè, io non la reggo una stagione così. Vittoria, ma a che prezzo per le nostre coronarie? Cioè, veramente. Tra l'altro, tra l'altro, una partita che mi ha dato dei segnali poco confortanti, perché è vero che la Virtus l'ha vinta con energia, con forza, difendendo, stando lì con la testa, però tante volte, tante volte siamo stati bucati, troppe volte, c'è stato un momento in cui il Bayern è riuscito a recuperarci un vantaggio di più 13, superarci. Lì la Virtus non stava difendendo, ma non stava nemmeno attaccando. Perché poi, nel momento in cui sei riuscito a difenderti un po' meglio, un po' meglio, non si attaccava, non si segnava. Magari qualche cadenza è stato più sfortunato, qualche primo ferro, per carità. Però proprio non entravano. E quando è così, l'avversario, chiaramente, prima o poi, per quanto puoi difendere un po' meglio di prima, prima o poi segna, prima o poi, soprattutto una squadra come il Bayern, che non avrà, magari, nei singoli, un vantaggio sulla Virtus, ma dei ottimi tiratori. E, infatti, piano piano sono arrivati. Poi, vogliamo metterci un'altra nota dolente? Io ce la devo mettere. A me, ieri, purtroppo, il JT mi ha dato di nuovo conferma del fatto che ancora non c'è. Non c'è, non abbiamo il JT in questo momento. Perché quello non è il JT. Uno che ti fa uno su sei da due. Poi tutto sotto, canesto. Cioè, anche errori banali, errori stupidi, errori che mi dispiace, che mi dispiace dire che ha fatto quel ragazzo lì, però che li ha fatti. Cioè, io non faccio il pagellone, non adesso. Però, se dovessi farlo, poverino, come fai a dargli più di quattro e mezzo ieri? Mi dispiace, mi dispiace veramente tanto per MAM, perché è uno dei miei preferiti e sono sicuro che tornerà in forma e che spaccherà alla grande, però per adesso non riesce. Non riesce a imporsi. Anche Miki. Miki, però, c'è una cosa rispetto a JT. Cioè, anche quando gioca male o gioca sotto tono, come ieri, falli, palle perse, ieri tantissimi palloni persi della Virtus. Cioè, è una roba veramente da cardiopalma, davvero. Però, Miki, quando riesce a trovare quel poco spazio che gli serve, la giocata te la fa. Perché è un giocatore di livello. C'è niente da fare. Gli altri... Vabbè, gli altri non mi sono dispiaciuti troppo, nel senso che non ce n'è uno, tolti Miki e JT, non ce ne sono altri che hanno giocato veramente male. Perché tutti hanno fatto i loro errori, però qualcuno di veramente disastroso, oltre... Ma perché poi disastrosi? Stiamo comunque parlando di una vittoria. Stessimo parlando di una sconfitta, sarei molto più severo. Benissimo il ritorno di Milos, che pur avendo qualche difficoltà fisica, soprattutto sulle gambe, però è lui, la visione è quella, le mani sono quelle, le bombe sono quelle, i passaggi sono quelli, ha fatto quel passaggio a Paiola, che poi non è riuscito a segnare, ma Baco, bam, giù nel canestro. Quello lì l'ha visto solo lui, praticamente. Ha visto un buco spazio-dimensionale. Ecco, dai, via, risolleviamoci un attimo il morale. Aspetti positivi. Baco, 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 che non aveva nemmeno cominciato tanto bene, ma poi ha reagito di carattere, ha reagito come un campione, uno che nella difficoltà, in una partita che sta andando storta, o che comunque sta vivendo un momento difficile, ti fa vedere che vale, che vale, che c'è. Un altro che mi è piaciuto molto, Ogele, Ogele. Ogele io non gli davo due spicci. Non gli davo due spicci quest'anno. Invece si sta dimostrando, non il fenomeno, però un giocatore forte, forte, su quale puoi contare. Paiola ha fatto il suo, Hackett molto meglio, rispetto ad altre partite, molto, molto meglio, una difesa solida. Ecco, purtroppo, la Virtus ha difeso bene per tanto tempo, ma c'è stato un momento in cui il Bayern ha giocato tanto bene, tanto aggressivo, per carità, e la Virtus ha fatto male sia la difesa che l'attacco. Quindi non segnava, e si faceva segnare. Era il momento del massimo vantaggio, era quello più tranquillo. Però Hackett ieri non gli posso dire male, perché comunque ha giocato una buona partita, secondo me. Lundberg sta diventando un mio pupillo, perché comunque il modo in cui gioca, anche proprio il modo in cui si pone in campo. Insomma, una Virtus che alla fine, sì, ha vinto, una partita tra l'altro che era molto difficile vincere, e che era importantissimo portare a casa, perché ovviamente si scontravano due scontente della prima giornata, e quindi chiaramente una delle due sarebbe stata ancora più scontenta. Per fortuna non è stata la Virtus ad essere, insomma, sconfitta nuovamente. Ultima menzione, ultima piccola parola su Wims, che ha fatto Kai Wims, è un giocatore che mi dà una sicurezza, una tranquillità molto, molto grande, anche nelle partite in cui magari non è brillante al massimo, e quella tripla che ha fatto così sul ferro e poi è uscita. Che sfortuna, perché era in un momento in cui se entrava, poi il vantaggio si sarebbe riallungato. E secondo me anche gli altri, anche la squadra, avrebbe tirato un sospiro di sollievo in un momento in cui la pressione era veramente alta. Però, va bene, così è importante vincere, ma è importante anche giocare bene, naturalmente, la Virtus non ha fatto una pessima partita, aveva comunque di fronte un avversario valido, siamo in Eurolega, lo sappiamo che è un momento difficile. Comunque, detto questo, di nuovo forza Virtus, e alla prossima!